Dopo un mese di accertamenti, i carabinieri della stazione del villaggio Mosè sono riusciti a dare un'identità all'uomo che a metà dello scorso settembre ha imbrattato con vernice di vari colori la marna di Punta Bianca d'Agrigento. Si tratta di un individuo DQ di 44 anni di Favara denunciato alla procura della Repubblica di Agrigento, il reato ipotizzato per lo scempio compiuto e deturpamento di bellezze naturali. A metà dello scorso mese i carabinieri sono intervenuti nei pressi dell'ex casermetta della Guardia di Finanza dove sulla marna di Punta Bianca erano stati scoperti e segnalati scritte e disegni che di fatto sfregiavano una delle località turistiche più visitate della provincia agrigentina. L'area non è considerata riserva ma è sottoposta con decreto regionale del 2001 a vincoli di immodificabilità. Dopo lo scempio l'attività investigativa è stata subito avviata. Sono stati acquisiti dei dettagli fra quelle scritte e quei disegni che hanno permesso attraverso un'indagine tecnica ad arrivare all'individuazione dell'autore dello sfregio. La marna di Punta Bianca, consorella della vicina scala dei Turchi, è stata nelle settimane successive al danneggiamento ripulita grazie all'opera dei volontari dell'associazione ambientalista Mare Amico che ne aveva denunciato lo sfregio. Grazie 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 Grazie